Oltre 16 chili di marijuana sequestrati e due persone arrestate con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E' questo il risultato di un'operazione antidroga condotta dagli agenti del commissariato di Trani a farne le spese Antonio Quercia, 29 anni, e Nicola Di Lauro, di 25, entrambi con precedenti penali. Quercia, al termine di una serie di controlli di routine, era stato notato a girarsi con fare sospetto nei pressi del portone condominiale della sua abitazione situata in via Barletta. Il frequente flusso di giovani che entravano uscivano dello stabile aveva messo in allarme gli agenti che per questo motivo avevano deciso di sottoporre a perquisizione sia il 29enne tranese che il garage nel quale era stato più volte visto entrare. Nella tasca destra del giubbotto del giovane venivano ritrovati 160 euro in contanti mentre all'interno del box risultava essere presente una busta in cellophane trasparente contenente 26 grammi di marijuana occultata su di un piccolo soppalco. Ma è a questo punto che un normale controllo di routine si trasforma in navire e proprie operazioni antidroga. Nell'esaminare dall'esterno i numerosi box situati al piano interrato della stessa palazzina gli agenti hanno notato attraverso una grata che all'interno di un altro garage vi erano due borsoni di colore nero e diversi bilancini di precisione solitamente in uso agli spacciatori di droga. La presenza di sostanze stupefacenti all'interno del box veniva segnalata anche dai cani antidroga fatti per venire sul posto dalla polizia penitenziaria di Trani. Da un rapido controllo risultava pagare un affitto per la disponibilità di quel box il 25enne Nicola Di Lauro già noto alle forze dell'ordine. Di Lauro si è più volte rifiutato di aprire la saracinesca del suo garage affermando di non essere in possesso delle chiavi, tanto che per ovviare all'incombenza è stato necessario richiedere l'intervento dei vigili del fuoco di Barletta. Una volta ottenuto l'accesso al box gli agenti del commissariato di Trani vi hanno trovato al suo interno 27 dosi di sostanza stupefacente per un peso complessivo di 16,5 kg, oltre al materiale occorrente per il confezionamento della druga. Il tutto veniva analizzato dalla polizia scientifica di Trani per poi essere sottoposta a sequestro. I due giovani, che dovranno rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati trasportati nella locale casa circondariale su disposizione del PM di turno, Silvia Curione.